Vince il Pergo 2-1, una bellissima gara con la Triestina, siamo con il nuovo attaccante del Pergo, Jacopo Cesarani, dico bene? Bene, bene, sono contentissimo di essere qua. Lui è un centrocampista, però per esigenza oggi è entrato in attacco e ha fatto il gol della vittoria, una grande soddisfazione per te. Sì, sì, certo, sono contentissimo di aver aiutato la squadra, sono sempre a disposizione, quindi entro dove c'è bisogno e cerco di dare il mio contributo sempre. Però hai messo praticamente la ciliegina su una prestazione di livello del Pergo questa sera. Sì, sì, come ho detto prima, siamo contenti, stiamo facendo un ottimo lavoro e dobbiamo continuare così perché ancora c'è tanta strada da fare, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Contro, tra le altre cose, non proprio l'ultima arrivata, la Triestina è una delle big di questo campionato. Sì, ma a noi non ci deve spaventare nessuno perché siamo una grande squadra e come ho detto prima stiamo facendo un ottimo lavoro e siamo sullo stesso livello degli altri, quindi sempre testa alta. Una caratteristica del Pergo questa sera, mi sembra che ha sempre comunque cercato di giocare palla anche dopo il pareggio che poteva fiaccarvi un po' psicologicamente. Sì, noi cerchiamo di mettere in campo il gioco che vuole il mister, quindi sempre di giocare, di trovare una soluzione con la palla a terra e di non buttare mai via il pallone, anche quando magari la situazione è difficile. Una vittoria che tranquillizza molto la classifica in questo buon inizio di campionato, obiettivi del Pergo? No, noi non dobbiamo guardare la classifica perché è presto, dobbiamo continuare su questa strada e far sempre bene, poi i conti si fanno a fine stagione.